La pandemia in questo ultimo periodo ci ha messo di fronte a sfide ma anche opportunità e ci ha insegnato che c'è un valore, un principio a cui difficilmente rinunceremo. Il valore e il principio è l'avere la sanità pubblica, un sistema sanitario universalistico che è finanziato dalla Fiscalità Generale a cui tutti contribuiscono secondo le proprie possibilità ma che risponde e garantisce la salute a tutti senza distinzione sociale ed economica. Abbiamo visto quali sono state le sfide della pandemia, sicuramente sfide da un punto di vista assistenziale, clinico per garantire la salute di quei cittadini che avevano positivi al virus ma anche sfide da un punto di vista organizzativo. Abbiamo imparato che sia a livello internazionale ma anche in Italia ci sono tanti sistemi sanitari diversi con attori, strumenti e organizzazioni che possono differenziarsi e questo può portare risultati diversi. Le opportunità che ci ha dato, quello di innovarci, quello di essere resilienzi, di adattarci al cambiamento ma anche risorse da spendere. Abbiamo circa 20 miliardi destinati a progetti di salute e sanità da spendere nei prossimi anni. La Seasona School Innovation Health Care ha proprio l'obiettivo di analizzare nei sistemi sanitari quali sono gli strumenti, gli attori e i tipi di organizzazione messi in campo sia per affrontare la pandemia ma sia per affrontare le sfide quotidiane per garantire la salute. In particolare lo faremo attraverso l'analisi di dati quantitativi, attraverso strumenti di valutazione della performance e attraverso esperienze di innovazione in sanità e in salute. La pandemia ha prodotto sfide e opportunità che sono state in talunni casi tradotte con il termine di resilienza. È un concetto che viene da lontano ma che è entrato nel nostro vocabolario comune in questo anno e mezzo di pandemia da Covid. La Seasona School sarà un'occasione per chiarire il significato di questo concetto, per discuterlo con gli stakeholder, policymaker, professionisti, anche esperti del settore accademici e grazie anche alla collaborazione con Agenas potremo capire come si può misurare la resilienza, valutarla, monitorarla e renderla uno strumento per far continuare a crescere il sistema sanitario. La Seasona School è in programma dal 27 settembre al 1 ottobre 2021. La deadline per le iscrizioni è il 12 settembre. È possibile ridurre la quota di iscrizione in base al proprio ISEE? Se fai parte di una delle università convenzionate avrai diritto al 10% di sconto sulla FI di iscrizione e i tre migliori studenti riceveranno una premialità di 450 euro grazie alle fondazioni, il talento all'opera è EY. Non perdere questa super opportunità!